E' davvero un grande onore per tutta la nostra comunità di Primiero avere insegnato di questa onorificenza il Cardinale Parolin. Sapevamo che non era tanto avvezza a onorificenze, ma quando gli abbiamo prospettato la cosa lui è stato davvero contento e quindi il Consiglio Comunale ha deliberato all'unanimità questa cittadinanza onoraria. Oggi voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, il Corso Smaor, tutte le autorità civili, le autorità militari, ma in particolare il Cardinale Parolin che frequenta Primiero fin da quando era ragazzo nei campeggi degli scout nella zona dei Dismoni e poi è sempre tornato qui anche quando ricopriva importanti incarichi religiosi come sta facendo adesso nella Santa Sede. Non ha mai fatto mancare la sua presenza e noi come Primiero abbiamo voluto dimostrargli la nostra vicinanza e la nostra preghiera.